Pronti? Uno, due, tre. Numero uno, Revenge va, squalificato. Sulla retta di fronte, all'avanguardia così Reptile, in seconda posizione Roxy del Rio, poi c'è il vuoto, in terza posizione il numero 5 è Rolling Stone Diff, poi il 6 di Radice del Prix. All'avanguardia continua il numero 3 Reptile, Reptile in vantaggio, in seconda posizione il numero 10 Roxy del Rio, 31,2, gli ultimi 400 metri. Alli sulla seconda piegata, con Reptile in vantaggio, in seconda posizione Roxy del Rio, in terza numero 5 è Rolling Stone Diff, poi all'esterno il numero 8 Ryan Probb, quindi ancora il 9 di Ricasoli. Passaggio davanti alle tribune, con all'avanguardia Reptile, Reptile continua avanti a Roxy del Rio, in terza posizione sempre Rolling Stone Diff, 32,8 il secondo parziale. Reptile, Reptile, Roxy del Rio, Rolling Stone Diff, Ryan Probb all'esterno, quindi Ricasoli, poi Radice del Prix, quindi Rasca del Sile. Filandiana agli 800 finali, sempre all'avanguardia il numero 3 Reptile, in seconda il favorito numero 10, Roxy del Rio, in terza numero 5, Rolling Stone Diff, 39 intanto per chiudere il terzo quarto. 600 conclusivi, non ci sono variazioni, vanno in filandiana, con la sola eccezione di Rasca del Sile che è all'esterno, che trova l'anticipo di Ricasoli. Intanto passa Roxy del Rio, Roxy del Rio su Reptile, Rolling Stone Diff, 34 per il penultimo quarto, vanno al termine della piegata con Roxy del Rio all'avanguardia. Ingresso indirittura, Roxy del Rio su Reptile, allunga Roxy del Rio per la seconda posizione, ancora Reptile di dentro con in fuori Ryan Probb e poi Rolling Stone Diff, procede per conto proprio. Roxy del Rio in seconda posizione, Ryan Probb su Rolling Stone Diff, poi Rasca del Sile, Reptile. Successo del favorito Roxy del Rio, 2,45 la quota al totalizzatore, 2,42 dovrebbe essere il tempo totale, la media di 1,18,6 e il quarto finale in 30,7.